Se sei introverso come me ti sarà capitato di pensare che non potrai mai farcela perché non sei socievole come gli altri ma questo non è vero, ci sono tantissime persone di successo che sono introverse e quindi in questo video parleremo di come sfruttare al meglio e capire che è una qualità che puoi sfruttare nella tua attività e non per questo riuscire meno ma anzi farcela proprio perché sei introverso Prima cosa da fare? Usa le tue capacità introspettive nel tuo business perché molto probabilmente se sei introverso sei anche una persona introspettiva e questo è fondamentale se si ha un'attività in proprio Quindi sfrutta questa capacità, prenditi dei momenti per te per capire come proseguire, per capire cosa potrebbe essere più giusto Prenditi dei momenti solo per te per sviluppare la tua attività Trova ogni giorno un momento solo per te per rigenerarti Se sei introverso come me, verosimilmente avrai bisogno dei momenti da passare completamente da solo perché quelli sono i momenti che ti fanno realmente stare bene e ti fanno ricaricare le batterie Quindi ogni giorno dedica mezz'ora, anche solo dieci minuti a te stesso per rigenerarti Non forzarti di essere chi non sei, non forzarti di fare qualcosa che non senti nelle tue corde, nel tuo modo di essere perché questo ti allontanerà ancora di più dal tuo obiettivo Non puoi essere quello che non sei Però, e lo vedremo nei punti successivi, puoi trarre tanta forza da, te lo dico tra poco Prova, prova e mettiti in gioco Perché a volte qualcosa che pensi non faccio per te invece può rivelarsi utile per il tuo business Ti faccio un caso specifico Per me, essendo introversa, nessun social trovavo realmente in linea con me, con i miei valori con il mio modo di essere e io ero l'antisocial in persona Però per il mio lavoro è fondamentale utilizzare i social in un determinato modo Dovevo scegliere un social, uno strumento per farmi conoscere online Nel mio caso, YouTube, io e i video, essendo introversa, non andavamo molto d'accordo Ma, iniziando e continuando a fare video, mi sono resa conto che poi mi piaceva davvero fare video Quindi a volte è solo questione di tempo e magari di provare Perché pensi che non faccia per te Ma poi ti accorgi che invece è la tua strada anche qualcosa che all'inizio pensavi impossibile Amati così come sei Non rimuginare ogni giorno pensando Quell'altra persona in quel modo Io non sarò mai così Non devi essere diverso da te stesso Più contrasterai la tua natura, peggio sarà Invece ama il tuo modo di essere e trai meglio da te stesso Fai leva sui tuoi punti di forza Sulle, per esempio, tue capacità analitiche o su altri punti di forza che hai Invece di fossilizzarti perché non sei stroverso e socievole Cerca di focalizzarti su quei punti di forza Su cosa le persone dicono o su cosa pensi tu di avere in più rispetto agli altri Per esempio, nel mio caso, ho delle capacità analitiche che posso sfruttare nel mio business Per te sarà qualcos'altro Sicuramente c'è E se pensi di non avere nessun punto di forza Allora chiedi a qualcuno che ti conosce bene Quale potrebbe essere un tuo punto di forza? Sono sicuro che saprà risponderti Leggi le storie di chi è introverso ma ce l'ha fatta Questo per capire che non per forza bisogna essere super socievoli per farcela Ma anche chi è introverso raggiunge grandissimi obiettivi e obiettivi anche più grandi Quindi l'importante è non fossilizzarti su quello che non si ha Ma focalizzarsi su quello che si ha e sui propri punti di forza Grazie a tutti